. . . . . . . . Padre a te mostri più essere sincero, santificetto il nome di tu, avvenghi al regno di tu! Sono fuori questo gusto fino a farti morire! Questa donna deve essere impiccata! Deve essere presa e impiccata! Non impiccata che mi dirò che non voglio più lavorare per tu, signore! Io me li accorgo quando ti viene la voglia. Io mi sento attirata dalla finestra. Ho già visto che guardavi suo consumato nella tua solitudine. Fondarsi che abbia guardato. Eh, Abigail vi ha detto che tutto ciò non ha niente a che vedere con la stregoneria. Sì. Ma perché lo avete taciuto? Oggi ho salvato la vita a lei! Chi mi ha accusata? Io non posso dirlo. Sono vincolata dal giuramento. Vai a letto. Io non sopporto più che mi diciate di andare a letto. Ho 18 anni e sono una donna anche se nuvile. Vuoi stare in piedi? Allora stai in piedi. Vuoi andare a letto. Allora buonanotte. Buonanotte. Che cosa c'è? Ma questo è un aglio. Ma che cosa significa? È un indizio grave contro vostra moglie, signor Putnam. Figliuola, considera... Io mi slago nella bambola di Mary perché venisse accusata a Emily. Sono stata ferita, signore. Ho visto scorrere il mio sangue. Ogni giorno rischio di essere uccisa perché faccio il mio dovere smascherando i complici del diavolo. Grazie a tutti.